Servizio ad alto impatto a Castellamare di Stabbia con i carabinieri della locale compagnia che hanno presidiato le zone del centro antico e del rione Cicerone. I militari stabbiesi aiutati dai carabinieri del reggimento Campania e dal nucleo cinofili di Sarno hanno identificato 50 persone e controllato 43 mezzi tra auto e scooter. Controlli anche negli stabilimenti balneari. Fondamentale il lavoro svolto dal cane antidroga Attila che ha individuato nelle aree comuni di due stabili di via Padiglione Gesù e piazzale Tommaso Milante diversa sostanza stupefacente. 54 grammi di marijuana, 200 grammi di hashish e 7 grammi di cocaina la droga pronta alla vendita che è stata sequestrata.